Una tromba d'aria ha colpito la zona del Lago Verde di Piacenza, in strada Sparavera, causando danni consistenti all'osteria che si affaccia sul lago. Questa potrà riaprire solo domenica. Stanotte praticamente c'è stata una violentissima tromba d'aria che ha causato seri danni sia nel locale che nel lago di pesca sportiva. Adesso stiamo cercando di tirarci su e vediamo anche con l'aiuto di amici pescatori che già si sono proposti nella giornata di stamattina di aggiustare i danni. Quella del Lago Verde è stata la zona più colpita da violenti temporali, grandi neraffiche di vento che si sono abbattute tra Mortizza, Gerbido e Caorso. Una notte di super lavoro per i Vigili del Fuoco di Piacenza che hanno eseguito 13 interventi causati dal maltempo. Purtroppo noi abbiamo il nostro patrimonio esposto al cielo e è così, non c'è niente da fare. Ora cosa farete? Si salva il salvabile, adesso valuteremo se è il caso di trattare o di abbandonare, adesso vediamo un po', valutiamo anche noi. Siete assicurati? Sì, fortunatamente siamo assicurati, ma tutte le culture ormai il giorno d'oggi si assicurano. Sono state colpite da raffiche di vento che hanno sfiorato gli 80 all'ora le coltivazioni di mais e pomodoro. I danni in alcuni campi sono al 100%. Ormai questo raccolto è completamente compromesso e non ci aspettavamo, è stato un fenomeno inaspettato, non previsto, è avvenuto di notte con una violenza dal punto di vista sia della grandinata che dell'acqua che è inaudita. Abbiamo dei danni del 100% su tutte le produzioni, il mais è sostanzialmente compromesso, il pomodoro anche, quindi è una situazione veramente brutta. Ieri sera parte la bomba d'acqua che è arrivata sopra casa, poi come ogni sera il mio compagno è venuto fino al vivaio a vedere la situazione e si è trovato tutto distrutto, cioè la grandine ma sembrava veramente 3-4 cm di grandine proprio una cosa assurda anche perché con tutto quello che aveva seminato così è andato tutto distrutto, anche quello che era già pronto ecco quindi vendibile. Quindi è un danno che al momento non è ancora stato calcolato ma parliamo comunque di migliaia di euro? Certo, piante, piante da frutto spogliate, verdura, tutta bucata, la semina nuova appunto che non si potrà più rifare perché al periodo era questo, non sappiamo cosa dire.